Vittoria schiacciante del Casoria qui oggi a volo contro Laziano City, siamo con uno dei protagonisti Ciro Rivitti che finalmente giunge al primo gol in maglia viola. Sì, contento soprattutto della prestazione della squadra e dei tre punti conquistati. Per quanto riguarda il gol lo aspettavo, finalmente è arrivato e spero di non fermarmi qui. Quanto è importante per un giocatore come te segnare anche in virtù dei gol che hai fatto lo scorso anno che sei arrivato in doppia cifra? Oddio, è sempre importante per un giocatore fare gol, però il mio obiettivo è aiutare la squadra e tentare di vincere questo campionato, in una maniera o nell'altra. Settimana prossima impegno importantissimo contro la Sibilla Bacoli, che partita ti aspetti? Mi aspetto una partita molto maschia, grande intensità, noi siamo consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza, andiamo lì e ce l'andiamo a giocare a viso aperto.